Montanaro e Marinaio Artista autodidatta e sperimentatore Da solitario viaggiatore a padre di una famiglia numerosa Indagatore dello spirito umano e del messaggio cristiano Tutto questo è Davide Orler Gentili amiche, cari amici, buonasera Ben ritrovati, siamo di nuovo insieme per proseguire Come ormai accade da diverse occasioni Il nostro itinerario, il nostro viaggio nell'arte di Davide Orler Le prime tappe di questo percorso hanno previsto Una sorta di cammino cronologico Nel rispetto cioè della evoluzione artistica Dei primi decenni appunto di Davide Orler Questa sera compiamo un piccolo salto Un piccolo salto in avanti che non è però uno sradicarsi Nell'ambito del percorso intellettuale ed artistico dell'artista Ma è soprattutto un andare al nocciolo di uno dei temi che accompagnano l'intera sua vita E che ha poi un momento culminante a partire dagli anni Sessanta Dall'incontro decisivo, determinante, importantissimo Con l'arte delle antiche icone russe Dalla sostanza di una radice che affondava la propria profondità In una vicenda familiare antica E che aveva comunicato a Davide Orler i valori della fede cristiana Sui quali egli stesso era tornato a più riprese e a riflettere Soprattutto dopo la grande crisi interiore della seconda metà degli anni Cinquanta Del 1958 L'incontro con le antiche icone russe non rende soltanto Orler Uno dei principali collezionisti a livello internazionale Punto di riferimento di un mercato che in quel momento era praticamente inesistente Portava degli appassionati di un piccolo cenacolo A ritrovarsi quasi nella comune passione dell'arte dell'icona Ma porta alla sua arte una linfa Una boccata d'aria fresca e nuova Che innesta su un convincimento profondo di Davide Orler Ovvero che il figurativo innanzitutto E l'arte sacra in seconda battuta Se preferite scambiare l'ordine degli addendi Il risultato non cambia Porta all'idea che è quello il veicolo per comunicare Con l'uomo del Novecento E allora benché, come dirà egli stesso La sua sperimentazione, la sua voglia di ricerca La sua voglia di trovare vie nuove per esprimersi attraverso l'arte Resterà indefessa, tant'è vero che anche a metà degli anni settanta Davide Orler cercherà e troverà spunti nuovi di approfondimento e di studio L'arte sacra diventa il pilastro, il baluardo del suo riferimento artistico Si abbeve alla sorgente delle icone Ma tanto forte e tanto intensa era stata la sua ricerca Negli anni precedenti, l'incontro con le icone Che avviene intorno alla fine degli anni Sessanta Che l'incontro con l'icona non fa altro che rafforzare qualcosa che Davide Orler portava già fortemente impresso dentro di sé Non è l'icona che apre una strada a Davide Orler È Davide Orler che si rende conto che nell'icona c'è una via preferenziale Attraverso la quale tornare a parlare di sacro in un momento, guarda caso Nel quale non soltanto la cultura in genere Ma anche la comunità ecclesiale dopo il concilio Vaticano II Si trova come disorientata, come smarrita, come dispersa In un momento nel quale si ragiona sui linguaggi nuovi Davide Orler torna al linguaggio antico Nella consapevolezza che è la fedeltà alle origini Che può dare freschezza nuova e contenuti nuovi A un lavoro che raccoglie l'eredità non di qualche secolo appena Ma di interi millenni Apriamo il nostro incontro odierno con un momento di approfondimento Un piccolo documento che abbiamo raccolto dal vasto archivio Dedicato a Davide Orler che negli anni si è fatto sempre più corposo Non solo nelle pubblicazioni e nei testi che si possono sempre richiedere ad Arte Network Ma anche nei contributi, nei video dei critici Di coloro i quali hanno incontrato l'arte di Davide Orler E hanno voluto dare il loro contributo per comprenderla meglio Per aiutarne la conoscenza e anche la condivisione Il filmato che stiamo per vedere insieme è dedicato principalmente alla Bibbia Ad un certo punto del suo percorso intorno agli anni 90 Davide Orler si concentra su un percorso biblico che si compone insieme di 50 opere Ma è allo stesso tempo l'ACME La punta dell'iceberg Del suo lavoro che come abbiamo detto veniva da lontano Quel lavoro è stato considerato Su quel lavoro ha riflettuto Ha portato il suo decisivo contributo Monsignor Timoti Verdon Il responsabile dei beni culturali dell'Arcidiocese di Firenze Che darà sostanza Alla testimonianza Che stiamo per vedere insieme E che rappresenta un po' la parte introduttiva del nostro appuntamento odierno Che è un percorso che pone accanto l'uni agli altri Le opere di Davide Orler e le antiche icone russa Dalla metà degli anni 90 La produzione di Orler si orienta di nuovo al figurativo Proseguendo nella riflessione sul sacro Avviata negli anni 60 E rimigorita dalla passione per le icone russe Per Antonio Paolucci Egli si muove con la disinvoltura di chi è padrone dei suoi mezzi espressivi Ma anche con l'urgenza di chissà che ciò che deve dire È importante per tutti Orler fa ciò che molti artisti del passato hanno tentato Non sempre con successo E cioè di creare un oggetto che coinvolge lo spettatore In una profonda meditazione In una meditazione che scaturisce certamente dalla religiosità personale dell'artista Ma che si comunica con efficacia Per cui anche la persona non religiosa rimane colpito da un sacro Da una riverenza davanti a un personaggio Un evento del passato Che è stata filtrata attraverso tutta la ricchezza di una vita di uomo e di artista Per arrivare a noi oggi come comunicazione leggibile dell'evento del personaggio E al contempo una sorta di icona della vita interiore dell'artista Che ci affascina, ci coinvolge e che ci invita a fare altrettanto Quindi a elevare la nostra immaginazione Oltre le parole del testo Verso ciò che potrebbe essere il significato ultimo di queste parole della Sacra Scrittura Orler ha questa capacità di trasmutare una sensualità estremamente forte e facilmente riconoscibile In espressione spirituale Elevatissima Eppure comprensibile Eppure comprensibile L'impatto della penelata Il colore esplosivo Eppure delicato Con sfumature quasi d'incandescenza In qualche passaggio Ecco, in David Orler Trova per un attimo la possibilità Di una significativa e gioiosa sintesi E questo si traduce nel cuore della persona Che guarda e medita il senso di queste opere La speranza Perché anche se non Letteralmente Anche se uno non riesce a verbalizzare La sensazione è Allora è possibile Allora questa gioia E questa sintesi Questa visione Da molto in alto Che ti permette di vedere tutto l'orizzonte È possibile Davide offre questa grande unità Che diceva una volta un amico monaco Che il mondo si divide in due categorie di persone Quelli che Dividono per analizzare le cose E quelli che uniscono tutto Cercando sempre una sintesi più completa Io credo che Davide sia In questa seconda categoria I dieci dipinti eseguiti nel 2005 da Orler Per raffigurare i dieci comandamenti Affidati da Yahweh a Mosè sul monte Sinai Sono innovativi e suggestivi E lui stesso Nel senso evangelico Bambino Ha quella inoscenza Quella freschezza di spirito Che Gesù chiedeva a tutti noi Quando disse che dobbiamo ridiventare come bambini E Orler come artista ci riporta a quella dimensione Ci riporta facilmente alla nostra innocenza E a quella gioia Che anche quando è questione di confessare un peccato Ci accompagna verso una salvezza già palpabile Nella bellezza di queste opere Un percorso artistico che era cominciato Tanto tempo prima Una delle prime immagini che Davide Orler dipinse Così raccontava nella sua infanzia Era il volto di una donna Che poi sarebbe diventato Nell'interpretazione e nel ricordo Anche il volto di una madonna Di una madre di Dio Sul canovaccio di casa Davide Orler ricordava della sua infanzia Che quella primitiva Originaria febbre di dipingere Lo portava a sottrarre alla madre gli stracci Quelli che si usavano per asciugare i piatti Per rassettare un po' la casa Per divingersi di sopra E la donna si lamentava del fatto Che molto spesso il guardarobo un po' rinnovato Dal punto di vista dei canovacci Risultasse poi vuoto Perché qualcuno misteriosamente glieli sottraeva E i primi soggetti Anche perché appartenenti ad un immaginario Di tradizione Che l'artista ancora giovane Giovanissimo verrebbe da dire Sentiva e possedeva dentro di sé Era appunto L'immagine mariana Il nostro percorso di questa sera Che affianca L'arte delle icone All'arte sacra di Davide Orler Per ribadire E per conoscere una volta di più Il fatto Come è capitato di fare in altre occasioni Che l'arte sacra è però E lo ripetevamo già in apertura Ma vale la pena accentuare Questo aspetto È un retaggio lontano di Davide Orler Su cui l'artista medita e riflette Ben prima di incontrare le icone Ebbene questo percorso si apre però Con il maestro delle icone Con la rappresentazione che Orler Nel 1997-98 Con questo quadro di 70 cm per 70 Smalti su tavola Fa dell'Evangelista Luca La tradizione vuole che l'Evangelista Luca Sia stato il primo iconografo E oggi sia Insieme a Sant'Andrea Rublov Il patrono degli iconografi San Luca vive più tardi Rispetto al tempo di Gesù E l'Evangelista che racconta La vita di Gesù In maniera molto sottile Ed intelligente Ma sulla base di testimonianze Non è stato al contatto Con i momenti decisivi Della vita di Cristo Ma incontra La madre di Dio Secondo i Vangeli apocrifi Secondo altre testimonianze Secondo alcune cronache I due si incontrano E si conoscono E vi è anche una certa frequentazione Tra l'Evangelista e la Vergine Al punto che l'Evangelista Che si diletta di pittura Ad un certo punto Pensa di ritrarre L'immagine di Maria E lo fa E glielo dice E lei si lascia O si lascerebbe Forse è il caso Di usare il condizionale Anche ritrarre Tanto che ad un certo punto Ammirando il risultato Della maestria di San Luca Gli dice che quella è Effettivamente La rappresentazione Dell'immagine originale E che quanti Riprodurranno quell'immagine Riceveranno la benedizione Della Vergine E' una tradizione ovviamente Una tradizione va detto Anche un po' tarda Considerando che Nei primi secoli Della chiesa E della cristianità Il tema dell'icona Vivrà anche momenti Di traumatico dissidio Pensiamo al periodo Iconoclasta Delle settime Ottavo secolo Quando gli iconoduli Cioè i fautori dell'icona Avranno vita più facile Avranno vita più semplice E riusciranno ad affermare La forza e l'identità Dell'icona Rispetto a quanti Le distruggevano E volevano abbatterle Dagli imperatori Insieme con i patriarchi In realtà temendo anche Forme di idolatria Che non erano del tutto Infondate Nella prassi quotidiana Ebbene uno degli elementi Contraddistintivi Dell'arte dell'icona Sarà proprio quella Di riagganciarsi Alle origini Da una parte Col volto di Cristo Non dipinto Da mano d'uomo Il volto di Cristo Acheropita Dall'altra parte Attraverso la figura Dell'Evangelista Luca E allora ecco Questa immagine Che Davide Orler Dedica All'Evangelista Luca Colto Come accade anche In alcune icone Dell'Oriente Cristiano Proprio nel momento In cui seduto Nel suo piccolo ambito Sarebbe troppo ambizioso Chiamarlo studio Sulla tavola Quasi è impegnato In un lavoro Preparatorio Propedeutico All'incontro Con l'icona E con l'immagine Mariana Vera e propria Davide Orler In questa opera Non si preoccupa Di raffigurare Quanto c'è Sulla tavola Non solo Perché lo dà Per scontato Ma anche E soprattutto Perché gli preme Mettere in evidenza Un altro aspetto Non secondario Dell'icona L'idea dell'icona Come luce Come riverbero Come rimando Di un tempo Di un luogo Che è un altrove Rispetto Alla condizione Umana È un frammento È una finestra È uno spicchio Di eterno Che entra a far parte Della vita dell'uomo E lo fa principalmente Col colore Che è il colore Di Dio E cioè Col colore Dell'oro Diceva Il grande padre Pavel Florensky Maestro Dell'interpretazione Dell'icona Nel novecento Il colore Dell'icona È l'oro E l'oro È il colore Di Dio La luce Increata Che brilla Da se stessa Non ha bisogno Di qualcos'altro Che le procuri Il brillio San Luca È in procinto Di preparare La tavola Ha davanti Un banchetto Molto semplice Quasi un treppiede Sul quale Stanno poggiati I colori I pigmenti Gli strumenti Della sua Rappresentazione E quello che colpisce Di questa immagine Di Davide Orler È il fatto Che ricava All'interno Della tavola Uno spicchio Che guarda Al di fuori L'eterno Che si materializza Nell'ambito Circoscritto Dell'impresa E del lavoro Di San Luca È allo stesso tempo Presente All'esterno Con una luce Di sole Che ha però Una doppia presenza Quasi un rimando Visto che Un terzo elemento Potrebbe essere coperto Dal capo di San Luca Quasi un rimando Al mistero Della Trinità Che è insito Che è presente Che è caratteristico Di ogni icona Altro elemento Interessante Che denota Come ha scritto Il compianto Don Renato Lafranchi Grande amico Di Davide Orler È forse uno Dei più acuti Interpreti Dell'arte Di Davide Orler Nel catalogo Della grande mostra Di Bassano del Grappa Tenutasi del 2000 Davide Orler Non copia le icone Le aveva capite Troppo bene Per copiarle E allora Ecco il tratto Innovativo Che Davide Orler Inserisce In questa immagine Di San Luca La luce dell'icona È luce Del santo evangelista Che si sta cimentando A dipingerla La luce dell'icona Illumina Specchia Raccoglie I colori Nell'abito Candido Candido Nella sua materialità Di San Luca Persino il volto È illuminato Dalla grazia In questo senso Davide Orler Raccoglie Fa proprio Ed elabora Uno stile Proprio Dell'icona Ma che non siamo Abituati a trovare In questo contesto Se immaginiamo Icone Basate su questo canone E cioè il fatto Che quando Le immagini Della Vergine Le immagini Di Cristo Le immagini Dei Santi Sono collocate Nell'icona Molto spesso Sono illuminate Dall'oro Che si trova Intorno a loro Dalla luce increata In cui sono immersi E che riverbera Persino sui loro vestiti In questo dipinto L'oro La luce Lo splendore Del divino Riverberano E illuminano L'abito Di San Luca Un dipinto Di grandissima Intensità Che è un po' L'apertura Del nostro itinerario Di oggi Ricordando Che San Luca È l'Evangelista E il patrono Al quale Gli iconografi Si rivolgono Nel cammino Preparatorio Ancora oggi Per realizzare Per scrivere Un'icona O divino maestro Dicono Rivolgendosi Naturalmente A Cristo Fervido Artefice Di tutto il creato Illumina Lo sguardo Di me Tuo servo Custodisci Il mio cuore Reggi E governa La mia mano Affinché Imperfezione E degnamente Possa io Dipingere E presentare La tua immagine Per la gloria La letizia E la bellezza Della tua Santa chiesa E poi aggiungono San Luca Evangelista E apostolo Primo iconografo Fa che io accolga Degnamente La tua eredità E per le tue preghiere Il mio lavoro Sia benedetto San Luca Davide Orler 1997-98 70 x 70 La misura Smalto su tavola Smalto su tavola Dipinto Di grandissima intensità Che è il miglior viatico Per entrare Nell'arte sacra Di Davide Orler Accompagnandoci Con la bellezza Dell'icona La prima La troviamo Accanto In questo nostro Piccolo itinerario Che abbiamo Predisposto Vediamo opere Principalmente Provenienti Dalla collezione Di famiglia Orler Cioè Le icone Che sono state Scelte Selezionate Conservate Custodite Attraverso Un percorso Di 60 anni Di collezionismo Che l'artista Ha compiuto E coltivato Praticamente Fino alla fine Della sua vita Nel 2010 Talvolta Proposte In grandi esposizioni E in grandi mostre E poi Preservate Come una sorta Di tesoro Dalle Tante E tante Icone Davide Orler Racconterà A un certo punto Di essere arrivato A possederne Oltre 3.000 Prima di decidere Anche con una certa Sofferenza Di condividerle Con altri amici E con altri appassionati Che per suo tramite Avevano scoperto Un'arte Negli anni 60 Negli anni 70 Negli anni 80 Assai aliena Dall'immaginario artistico Anche italiano Benché Come sappiamo Molte testimonianze Dell'arte bizantina E dell'Oriente cristiano Percorrono l'Italia Da Venezia A Ravenna Ai mosaici di Monreale La Cappella Palatina Di Palermo Roma E potremmo poi Continuare Il Battistero Di Firenze Potremmo continuare Con tanti e tanti Altri esempi Quella che stiamo Osservando E ammirando insieme È un'annunciazione Del 1500 Una grande E importante opera Grande dal punto di vista Storico ed artistico Siamo a 31,8 Per 27 centimetri Una preziosissima basma Cioè una cornice Che corona L'immagine centrale Che è l'annunciazione Esattamente come la ricordiamo Di provenienza Di origine Di retaggio Ma la radice è unica L'arte è unitaria Non è un'arte divisiva E non è un'arte divisa Come la ricordiamo Nell'immaginario Anche di molte opere Dei primitivi toscani L'angelo Di fronte a Maria Quello che emerge Da quest'opera È anche La visione Interessantissima Della tela Che è il primo atto Di preparazione Dell'icona E che qui ancora Sborda Da questa Immagine Prima che l'immagine Fosse onorata Con il rivestimento In metallo E poi Al centro Appunto La rappresentazione Dell'annuncio Dell'angelo Con la mano Benedicente E dall'alto La colomba Dello Spirito Santo Che Arriva Va a compiere Il prodigioso Concepimento Ma com'è possibile Dice Maria Nel Vangelo All'angelo Com'è possibile Se non conosco Uomo E l'angelo Dice Nulla È impossibile A Dio Echeggiando Già Altri annunci Similari Avvenuti Nell'antico E nel Nuovo Testamento La colomba Che discende La madre Di Dio Che apre Le sue mani In segno Di Resa Di Accondiscendimento A quanto L'angelo Le ha appena Annunciato Al volere Di Dio Molto interessante Anche la parte Pittorica Retrostante Una simbologia Che rimanda Ancora una volta Al retaggio Della Trinità E Al dipinto Accanto Ecco che Incontriamo L'immagine Dell'annunciazione Così come Siamo ancora Prima Attenzione L'affiancamento Avviene per rimandi Di simbologia E per analogia Di rappresentazione Ma Il dipinto Che stiamo Osservando Ora insieme È Realizzato Dall'artista Prima Di incontrare Le antiche Icone Russe L'annunciazione Del 1960 L'incontro Con le icone Avverrà Intorno Al 1967 68 100 Per 116 Centimetri E anche qui Abbiamo modo Di Osservare Di vedere Come In una Immagine Paradigmatica L'angelo L'angelo Dinanzi a Maria Se ci vogliamo Limitare Al contesto Occidentale La mente Potrebbe andare Molto favorevolmente A Giotto Per esempio Eppure In Orler C'è la capacità C'è l'intensità C'è la forza interiore C'è la forza interiore In questo momento Davide Orler Ha 29 anni Era nato Nel 1931 Di dare Un'impronta Personale A questo incontro Se abbiamo Un attimo In mente L'icona Che abbiamo visto Pocanzi Con le sue Architetture Di fondo Con quegli edifici Che rimandano Al Tempio Di Gerusalemme Luogo sacro Per eccellenza Qui troviamo Una grande Finestra Aperta Che guarda Su Un panorama Di natura L'angelo Annuncia L'incarnazione A Maria E tutta la natura Ne ottiene Beatitudine Tutta la natura Tutto il creato Si riconcilia Col suo creatore Perché Il creatore Si è fatto Uomo E quindi È diventato Egli stesso Creatura Quando nel paradiso Della divina commedia Dante Alighieri Incontrerà La madre di Dio E San Bernardo Si rivolgerà A lei Con La preghiera Quell'inno Straordinario Del canto Trentatreesimo Che è poi L'apogeo Finale Della divina commedia Prima del misterioso E grandioso Incontro di Dante Alighieri Con Dio San Bernardo Dice Alla Vergine Beato il tuo Grembo Perché In quel Grembo Il Suo Fattore Cioè colui Che aveva fatto Quel grembo Non disdegnò Di farsi Sua fattura Cioè non disdegnò Di diventare Egli stesso Ciò che lui aveva creato Creatore e creatura Nel salvatore Si fondono In un'unica realtà Le due nature divina e umana Verrebbe da dire Ma ecco che la natura Ne trae Un nuovo splendore Paradossalmente È un dipinto Di ampie dimensioni Siamo a 100x116 cm Eppure Una volta scorso Con lo sguardo L'immagine Dei due Protagonisti Gli occhi Si posano Su quel Fondo Di natura Che splende Di gioia A questo annuncio Dell'arcangelo Gabriele Che da un lato Comanda Esegue un ordine Di Dio E lo porta A Maria Dall'altro E con l'altra mano E qui c'è una simbologia Straordinaria Supplica Se le mani Nell'icona Erano aperte In segno Di rendimento Di grazie Qui sono chiuse Sul petto Non A simboleggiare Un rifiuto Ma piuttosto A rappresentare Uno sgomento Per la grandezza E il mistero Che si sta compiendo Davanti agli occhi Di questa giovane ragazza Una ragazza come tante Di Palestina Perché lei E non un'altra Perché lei E non Una persona Magari di rango Più elevato Lei semplice Tra i semplici Qualche versione dice Che al momento Dell'incontro Con l'angelo Maria stesse Leggendo Stesse Recitando Le sue preghiere Altri dice Che stesse Tessendo Parte della tela Del tempio Di gerusalemme Ma Nel brano Di vangelo Che noi Riusciamo A leggere In ciò Che Davide Orler Ha rappresentato Vi è esattamente L'annuncio Dell'angelo A Maria Vi è esattamente Quel che l'angelo Sta dicendo A Maria Ecco La Vergine Concepirà E darà Alla luce Un figlio Che sarà Chiamato Emanuele Che vuol dire Dio Con noi Maria stava Leggendo Quanto si Compie Davanti Ai suoi Occhi Varrà La pena Sottolineare Ancora Che Davide Orler In questo Momento Ha 29 Anni Da Due Il 1958 Ha passato Una crisi E un Travaglio Interiore Che racconterà Egli stesso Lo avevano Portato Sull'orlo Di un Gesto Estremo Finché Come ci è Capitato Di narrare In altre Circostanze Il passaggio All'alba Di un Mattino Davanti Ad una Chiesa Lo spinge Ad entrare A raccogliersi In preghiera A riscoprire La possibilità Di una vita Nuova E diversa Due anni Dopo Ecco Quest'opera Straordinaria Che è Completata Dalla visione Di questa Colomba Dello Spirito Santo Nell'icona Avevamo Visto Una Discesa Dall'alto Qui Con un Altro Rimando Di Un'acutezza Di Una Sensibilità Di Una Raffinatezza Spirituale Che denota Che anche Nei momenti Del Rifiuto L'artista Si era Intrattenuto Aveva Avuto Familiarità Con Le scritture Con I testi Sacri Con La Meditazione Dei Misteri Per Questo Il Nostro Itinerario Si chiama L'uomo L'intellettuale L'artista Perché L'artista Sarebbe Ben Poca Cosa Se Dietro Di Sè Non Avesse Un Uomo Prima E Un Intellettuale Poi E Allora La Colomba È Posata Sulla Finestra Non C'è Un Movimento Perché Tutto In Realtà Si è Già Compiuto Ed E' come se Questa Colomba Che sta Accanto Alla Vergine Fosse Posata Lì Come Una Mano Amica Di Dio Che Le Dà Fiducia E Conforto Rispetto Alla Grandezza Delle Cose Che Stanno Per Accadere D'altronde Il Vangelo Ci Dice Che Maria Proprio San Luca Ci Dice Che Maria Meditava Tutte Queste Cose Nel Segreto Del Proprio Cuore E Dietro La Colomba Ancora Un Profilo Di Natura Che Pare Rigenerata Nel Contesto Di Questa Straordinaria Rivelazione Annunciazione 1960 100 Per 116 Centimetri Grande Grande Opera Di Davide Orler Grande Opera Che Ci Avvicina Alle Icone Ma Ancora Non Ha Incontrato Le Icone E Tuttavia Dirà Davide Orler Nella Sua Autobiografia Al Mattino Al Tramonto Scusate Quando Il Cielo Si Infuoca Dirà Ad Un Certo Punto Divenne Piena In Me La Convinzione Che Il Filone Religioso Ormai Abbandonato Perché Considerato Retaggio Del Passato Avrebbe Potuto Rappresentare Il Riscatto Dell'Arte Moderna Vista Da Molti Purtroppo Come Mero Esperimento Creativo Gioco D'assurdi Ed Istravaganze Ritenuti Dai Più Inconciliabili Con La Spiritualità Dei Temi Cristiani Tempo Dopo Davide Orler Sta Parlando D'inizio Degli Anni Sessanta Avrei Fatto Mille Parole Scritte Da Papa Paolo Sesto Nel Suo Discorso Agli Artisti Del Sette Maggio 1964 Non È Possibile Che L'Arte Moderna Non Possa Servire All'Arte Sacra L'Arte Sacra L'Arte Sacra Per Eccellenza Raccontata E Rappresentata Attraverso L'Antica Iconografia Russa Eccola L'abbiamo Avuta In un'anticipazione Nell'opera Che ha Avvicinato L'Annunciazione Ma la ritroviamo In quest'altra Straordinaria Icona Della Dormizione Della Vergine Siamo Alla fine Del 1500 Inizi Del 1600 Collezione Raccolta Privata Di Davide Orler E della Famiglia Orler Importante Anche Per dimensione Siamo Intorno Ai 40 Centimetri Per 30 È una Dimensione Notevole E interessante Siamo a Novgorod Una delle scuole Più Importanti Della storia Novgorod La Grande Quella che contendeva Prima a Mosca E poi a San Pietroburgo Quando Pietro il Grande Realizzerà la grande città Sulla Seconda metà Del 1700 Il primato Non solo il primato Politico Ma anche il primato Morale Di città Che aveva resistito Alle invasioni Alla presenza Degli infedeli Ai tentativi Di surclassare La fede Dell'Oriente E la fede Dei cristiani Da parte Dei nemici Novgorod Che rivendicava L'identità Della fede Della terra Di Russia E qui Varrà la pena Fare un piccolo Inciso Per correttezza Di conoscenza Visto che Il tempo Di arte network È anche quello Di un pubblico Che magari Ha meno familiarità Con l'arte Dell'icona E più avvezzo A leggere I canoni I criteri I sistemi I metodi La grafia Dell'arte contemporanea Quando parliamo Di icona Quando parliamo Di antiche icone Quando parliamo Di arte Dell'icona Parliamo In primo luogo E questo Davide Orler Lo aveva capito Benissimo Non appena Aveva incontrato L'icona E ne aveva tratto Ispirazione Avevamo un po' Titolato Ispirato Dalle icone Questa nostra Tappa speciale All'interno Del percorso Artistico Di Davide Orler Davide Orler Lo aveva intuito Benissimo Parliamo Di un'arte Che è comune All'intera cristianità Ogni lettura Dell'arte Dell'icona Che la definisca Ortodossa Che la definisca Di altri Che la definisca Non nostra È una lettura Arbitraria Impropria Che non ha Alcun fondamento Negli elementi Storici Dell'arte Dell'icona L'icona È il primo Strumento Attraverso i quali I cristiani Delle origini Basta visitare Le catacombe Di Roma E decrittare I primi segni Le prime immagini Che là Vengono collocate È il primo Strumento Con cui i cristiani Si avvicinano Alla preghiera Hanno visto Il loro maestro E salvatore Vogliono Continuare A vederlo Mentre si raccolgono In preghiera E celebrano La liturgia L'icona È La sorgente Dell'intera cristianità E tale rimane Fino all'anno 1000 Nella chiesa Indivisa E poi rimane Ancora Se guardiamo Ai primitivi Toscani Nella chiesa latina Almeno fino al 1200 1300 Quando piano piano L'Occidente Si distanzia Da quei modelli Da quei criteri E lascia All'artista La libera Ispirazione Perché l'opera Non serve più A manifestare Una parte Del sacramentale Di ciò che è L'essere cristiano Ma serve Ad educare Chi non sa leggere In questo In parte La funzione Resta anche Nell'icona Serve a decorare Le chiese Serve ad abbellire I luoghi del sacro Ma non ha più Uno scopo E una funzione Che sia quella Di fare presente Rendere Concreta E visibile La presenza Di Cristo Della madre Di Dio E dei santi In mezzo a coloro Che si ritrovano A pregare L'Occidente Si distanzia Da questo Anche Con qualche Non improvvisato Momento Di disorientamento Che si protrae Purtroppo Fino ai giorni Nostri Con espressività Che gli stessi Ambiti Di una certa Chiesa Giudicano Oltre ogni limite Del comprensibile Ma dall'altra parte C'è un Oriente Anche dei cattolici D'Oriente Basta pensare Agli uniati Dell'Ucraina Che continuano A pregare Con l'icona E continuano A trovare Nell'icona La freschezza Dei primi secoli Quindi vedere L'icona Come qualcosa Di russo Certo Sono icone russe O icone greche O in minimissima parte Anche perché All'epoca Non se ne trovavano Icone rumene Sono icone Ortodosse Ma ortodosse In quanto custodite Da uno Dei due polmoni Della fede cristiana In realtà Strumento Appartenenza Radice Di tutta la fede Dei cristiani Torniamo a vedere Questa immagine Della dormizione Torniamo a vedere Questa potentissima Immagine Di Novgorod Siamo alla fine Del 1500 Il percorso Attraverso L'arte sacra Di Davide Orler Ci viene guidato Con opere Di altissima epoca E di grandissima importanza O se di minore epoca Di particolarissima Rilevanza Storica Ed artistica Questa è L'interpretazione Della scuola Di Novgorod L'addormizione Della madre di Dio E la nostra Assunzione Di Ferragosto L'assunta La dormizione La madre di Dio Si addormenta In Cristo E Cristo Ne raccoglie Già l'anima Per portarla Verso i cieli Mentre i discepoli Sono raccolti Intorno In compianto Ma il compianto Fiducioso E certo Che da quello Addormentarsi In Cristo Ne nascerà Appunto L'approdo Diretto al cielo Se andiamo accanto Ecco come Davide Orler Arriva Ad interpretare Siamo in epoca Più tarda Siamo nel 2008 Mancano due anni Alla Fine della vita Terrena Di Davide Orler Davide Orler Sa già di essere malato Sono gli anni In cui mette mano Anche alla sua Autobiografia scritta Da cui abbiamo tratto Il brano che abbiamo letto E traremo anche un paio Di altri brani Che ci accompagneranno Nel corso Di questo itinerario E anche qui Ancora una volta Certo L'icona serve Da modello Serve Da ispirazione Ma l'artista Ha un suo Proprio codice Con il quale Esprimere Questi valori Questi elementi Queste caratteristiche Vi è la sua Meditazione Vi è il suo Percorso interiore Vi è la sua Certezza Che Dio Non è Un orpello Della storia Ma è Un punto Di riferimento Per orientarsi Nell'apparente Confusione Del quotidiano Così Davide Horner Nella sua Autobiografia Che abbiamo già citato Al tramonto Quando il cielo Si infuoca E vale la pena Leggere Questo breve passo Mentre vediamo Quest'immagine Descrive L'incontro Con le icone Al 1965 Risale Un fatto Straordinario Che avrebbe Influenzato Tutto il corso Successivo Della mia vita A Venezia Arrivò Dalla Russia Una compagnia Del teatro Bolshoi Di Mosca Già all'epoca Tra le più prestigiose Al mondo Ebbi l'avventura Una sera Di conoscere Uno dei giovani Attori Che facevano Parte del gruppo Dopo aver parlato Un po' Chiaramente Non senza Qualche difficoltà Compresi Che mi proponeva Di fare Un affare Ecco La cosa Nasce come Uno scambio Economico La domanda Prima mi Preoccupò Poi Mi intrigò Gli chiesi Di che cosa Si trattasse E lui In fretta In maniera Un po' Furtiva Tirò fuori Da un panno Lacero Che fino a quel Momento Aveva tenuto Ben nascosto Un'antica Icona Per me Fu come Una Fulgorazione Rimase Subito Colpito Da quell'immagine Della madre Di Dio Delicatissima E piena Di religiosa Pieta Sbordata D'oro Che testimoniava La ricchezza Di un misticismo D'altri tempi Stava cominciando In quel momento Senza che neppure Me ne rendessi conto L'ennesima Svolta Della mia Esistenza Eppure Davide Aveva già Incontrato In un'altra Circostanza L'icone Russe Era accaduto Nel suo Paese Natale A mezzanno Di Primiero Ai piedi Delle Dolomiti Quando Subito Dopo la fine Della guerra Lui ancora Ragazzino Una madre Gli aveva mostrato A volte in un panno Con grande Devozione Una piccola Immagine Mariana A cui attribuiva Il ritorno Miracoloso Del proprio Figlio Dalla sanguinosa Campagna di Russia In cui avevano Perso la vita Centinaia Di migliaia Di soldati Italiani Davide Orler Ricorda Incontrando I ragazzi Del Bolshoi Quel momento E quell'attimo Egli si schiude Un mondo Che lo accompagna In tutto Il suo Percorso Successivo Qui Nel 2008 Davide Sente Avvicinarsi La fine Del suo Percorso Terreno E forse Non casualmente Torna a Rimeditare Su questa Figura Che è La madre Di Dio Certo Come ispirazione Ma è in fondo Ciascuno Di noi Posto Dinanzi Al passaggio Più grande E più tremendo Della sua Esistenza La fine Della vita E intorno Non ha Solo I discepoli Come in quella Splendida Raffigurazione Di Novgorod Ma Quasi Una serie Di anime Pensiamo Abbiamo citato La commedia Di Dante Ad alcune Raffigurazioni Di Gustave Doré Dedicate Alla divina Commedia Quelle anime Evanescenti Che in paradiso Sono luce E le cui emozioni Trapelano Dal baluginare Più o meno Intenso Della loro Luminosità Siamo già In una realtà Trasfigurata Se la dormizione Pur essendo Un'opera Sacra Che rappresenta Un mondo Trasfigurato È presente Nell'icona Qui la realtà Trasfigurata È Presente Nel dipinto Colui che O colei Che si sta Per addormentare In Cristo È già Pervasa Dalla luce Del Cristo Luce Che la aspetta E che illumina Persino Le spoglie Mortali Non è Non confondiamo Un quadro Di angoscia È un quadro Di grande Speranza È un quadro Di grande Speranza Ancor più Perché era La speranza Poi certezza Di Davide Orler Per cui Il passaggio Finale Non era Che un Momento Effimero Per aprire Gli occhi Su un'altra Realtà Eterna L'autobiografia Di Davide Orler Si conclude Dicendo Vorrei Poter Guardare Quel momento Negli occhi E cheggiando Anche rimandi A grandi autori Classici Come Le memorie Di Adriano Di Margheriti Ursenat 2008 Davide Orler Dormizione Della Vergine 145 Per 96 Centimetri Dalla Dormizione Passiamo Ad un'altra Immagine Importante Non senza Ricordare Un aspetto Significativo Di questo Nostro itinerario Nell'arte Di Davide Orler Lo ricordiamo Ad ogni appuntamento Non lo ripetiamo Anche perché L'intenzione È quella Che poi Queste Trasmissioni Rimangano Un po' A testimonianza Di un percorso Di un itinerario Di conoscenza E di divulgazione Ma Le opere Che avete visto E che vedrete Esposte Sul nostro set Sono ovviamente Disponibili All'acquisto Del pubblico Parliamo Delle icone E parliamo Dei dipinti Chiamando Il nostro numero Siamo rigorosamente In diretta Quindi potrete Relazionarvi Col nostro direttore Col nostro centralino Col nostro Stefano Che vi risponde Personalmente Parlare con lui Conoscere Le condizioni Di prezzo Le possibilità Tutto quanto È necessario Sapere O vorrete sapere Di ciascuna opera Per poter Acquisire O l'icona O il dipinto O entrambi Ovviamente Nulla va insieme Ad altro Per cui la scelta Può essere Benissimo Individuale Il percorso Costruito Vuole andare Al cuore Di un aspetto Cruciale Per la comprensione Di Davide Orler Come abbiamo visto Anche nel documentario Di apertura Ma Ciò non toglie Che chi lo desiderasse Può contattare Il nostro centralino E mettersi In contatto Con il nostro direttore Per avere Tutte le informazioni Necessarie Riguardo a prezzi E riguardo Come per tutte le opere Vendute da Arte Network Anche alle facilitazioni Di pagamento Che su ciascuna opera Sono disponibili Chiamate quindi Il nostro centralino Parlate Con Stefano Orler E avrete tutte le informazioni Che vi servono Potete opzionare Come sempre Opzionare Non significa acquistare Ma significa Semplicemente Poter Mettere da parte L'opera E vederla Nel momento in cui Voi ritererete opportuno Alle condizioni Che vi verranno dette Al centralino Questo era il momento Corretto Per ricordare Questo aspetto Anche dopo circa 50 minuti Di trasmissione Insieme Adesso torniamo però Al nostro itinerario Così per come Si sta sviluppando Certamente Vi mostreremo Tutte le opere Che sono sul nostro set Dicevamo Dalla dormizione Alla crocifissione Eccola qui L'icona prescelta Per illustrare Questo altro momento Fondamentale Nell'economia Della salvezza Cristo si fa uomo Per dare il suo sangue Per il riscatto Dell'umanità Davanti a noi Abbiamo Una importantissima Icona Della crocifissione Del XVIII secolo Proveniente Dalla Russia centrale 54,5 Per 27 cm E' la rappresentazione Più classica Della crocifissione Ma con una caratteristica Che la rende unica E importantissima Rare sono Le icone Intagliate Cioè Comparti Che non siano Soltanto dipinte Ma anche Fortemente Marcate Nella direzione Almeno di una Relativa e minima Tridimensionalità Come si sa L'arte dei primi tempi Della Chiesa Rifugge La tridimensionalità A meno che non si tratti Dei santi Che sono figure Umane Terrene Che hanno Ben imitato E ben seguito La parola di Dio E del Vangelo Ma sono Figure storiche Quindi possono essere Rappresentate Nella loro Piena plasticità Mentre per le Rappresentazioni Sacre Dell'Antico E del Nuovo Testamento L'arte Dell'Oriente Cristiano Predilige La bidimensionalità La figurazione Pittorica Nella parte Alta dell'icona Che è stata Intagliata E sagomata Alla maniera Di una cupola Ecclesiastica Le cupole Delle chiese russe Sono famose Per questa loro Forma che evoca La fiamma Che si leva Verso il cielo Ecco l'immagine Di quello che Nella tradizione orientale Non si chiama Dio padre Di per sé Irrappresentabile Chi ha visto me Ha visto il padre Dice Gesù Ma che viene Effigiato Con questa Immagine Di anziano Canuto In Veste bianca Secondo Una visione Profetica Che fu Del profeta Daniele Nell'Antico Testamento Icona Importantissima Della Russia Centrale Fondo oro Dietro la croce In questa parte All'interno Intagliata Che delimita Appunto Il perimetro Vero e proprio Della croce I piedi della croce La madre di Dio E il discepolo Prediletto San Giovanni Accanto In croce Davide Orler 2007 L'anno Di realizzazione 80% La misura Del dipinto Siamo a smalti Su tela Qui più che altrove Ci si può Domandare O magari Ci si domanda Qual è L'affinità Che unisce La crocifissione Che abbiamo visto Poc'anzi Della Russia Centrale Con questa Immagine Le braccia Aperte La evocazione Quasi simbolica In croce Sì Ma Questa figura Che noi vediamo È poi davvero In croce Sì Non è forse Una croce Materiale Non è la croce Linea Di Cristo Ma è la croce Delle fatiche Quotidiane Alle quali Ogni uomo È appeso Nel suo Cammino Di ogni giorno Chi vuole Seguirmi Prenda la sua Croce E mi segua E venga dietro Di me Dice Gesù Nel Vangelo Non era importante Per Orler Qui Andare A Ripetere Qualcosa Anche di molto Comune Di molto Familiare Cristo in croce All'epoca Peraltro Ancora presente Anche nei luoghi Pubblici Rispetto a certi Pudori Che oggi Contraddistinguono Il nostro tempo Interessava di più All'artista Siamo nel 2007 Anche qui c'è Il travaglio Di una malattia Che si sta manifestando Interessava di più All'artista Raffigurare La croce Di ogni giorno La fatica Di ogni giorno Quel colore Grigio Plumbeo Che sembra Gravare Sulle spalle Di questa Sembianza Umana Ma Un colore Egligio E plumbeo Che è mitigato Che è alleviato Che è Sollevato Da questo sole rosso Che splende Alle sue spalle E che Porta una Rilucenza Che si riverbera Sulla figura L'uomo L'uomo In croce È riscattato Dalla luce del risorto L'uomo In croce È riportato Alla vita Dalla luce Del risorto In croce C'è l'uomo Ma dietro Di lui C'è il sostegno Il supporto L'altra Dimensione Dalla quale Egli può Essere salvato Affidandosi Affidandosi Alla quale L'uomo Trova la salvezza E non L'ipotesi Della salvezza E non Il dubbio Della salvezza Ma La certezza Della salvezza Ecco quando Orler dice Che l'arte Contemporanea Può servire All'arte sacra Facendo sue Le parole Di Papa Paolo VI Gli strumenti Dell'arte Moderna E contemporanea Qui non abbiamo Un'icona Qui non abbiamo Un dipinto Figurativo In senso proprio Ma D'altronde Abbiamo Un messaggio Chiaro E inequivocabile Con I canoni È il caso Di dirlo Visto che Parliamo anche Di icone Dell'arte Contemporanea Che ha i suoi Canoni In quella Apparente Onnicomprensività E vasta Espressività Che tutto Include E tutto Esclude Perché come Diceva Davide Orler ad un certo Punto Quasi Non si capiva Più niente Opera Del 2007 Che vive Quindi già Il palpitare Dell'icona Se andiamo Accanto Facciamo Un salto Indietro Ma a dire Quali frutti Aveva già raggiunto La meditazione Religiosa Di Davide Orler Prima delle icone 1963 120 per 75 centimetri Questa sì È la crocifissione Ma non è Nonostante Le icone Debbano ancora Arrivare Nella vita Di Davide Orler Si dice La vulgata Vuole Ma è un fatto Lo abbiamo Intravisto anche Nell'icona Della Russia Centrale Importantissima Ripeto Per quel carattere Di intaglio Che la caratterizza E che la valorizza Che la crocifissione Dell'Oriente cristiano È La morte Che è già redenta La morte di Cristo Che però Attende La resurrezione Un addormentarsi Non un morire Perché quel tempio Che è stato distrutto Nel tempo di tre giorni Troverà la sua rinascita E sarà una rinascita Eterna Ebbene Se noi andiamo A guardare Questo dipinto Di Davide Orler La dimensione Della rinascita Rispetto Al gravame Della morte È racchiusa In questo Straordinario Corpo Che È sconfitto Agli occhi Del mondo Ma non è vinto Agli occhi Di Dio Dio mio Dio mio Perché mi hai abbandonato Sono Tra le ultime parole Di Gesù Sulla croce Che è un modo Per dire Che anche Egli Patendo Ha visto La disperazione Ma è un modo Per riaffermare Che Dio Era lì E non a caso Lo abbiamo visto Nell'icona Della crocifissione Quest'uomo È sconfitto Agli occhi Del mondo Ma non ha perduto Agli occhi Di Dio E benché Il suo costato Getti sangue Il suo volto Non è sfigurato Non è devastato Non è reso Irriconoscibile Dalla sofferenza Pensiamo A certi volti Di Cristo Che l'arte moderna E contemporanea Ci ha dato Nel corso Dei decenni Della seconda parte Del novecento Certo Grandi capolavori Ripensiamo Ad alcune immagini Sacre Anche di pittori Non credenti O non del tutto Credenti Come per esempio Salvador Dalì Ma d'altronde Anche volti Deturpati In cui La fine Dell'umanità Di Cristo Era in qualche modo La fine di tutto Qui no Qui c'è Un lento Declinarsi Di Gesù Che sembra Aspettare La risurrezione Anche nel volto Del centurione Che nella morte Lo ha riconosciuto E nell'immagine Di Maria Che ai piedi Della croce Piange Il figlio Ma mantiene Questo è un altro Aspetto Di grandissimo Interesse Mantiene La sua dignità Di donna E di madre Non è colei Che è Abbandonata Da tutto È colei Che si aggrappa A quel corpo E in quel corpo Ritrova La propria forza 1963 120 x 75 cm Crocifissione Accanto Dall'annunciazione La dormizione La crocifissione Siamo Nel solco Di immagini Che sono Il cuore Della cristianità La madre Di Dio Del segno Per quanto riguarda Questa icona Siamo nella Russia Centrale 29,5 x 23 cm Icona di alta epoca Importante opera Antica Di grande antichità Che riporta Ad un'immagine Che in qualche modo Procede in parallelo Con quella Dell'annunciazione La madre di Dio Con le mani aperte Si è fatta La tua volontà E con il volto Del Cristo Emanuele In grembo L'annuncio Si è appena compiuto L'annuncio Si è appena compiuto La Vergine Ha accolto Questa Prodigiosa Manifestazione Rimettendosi Rimettendosi Alla volontà Del padre La madre di Dio Del segno Dicevamo Dell'arte dell'icona Come arte Della chiesa Indivisa Si trova Nelle catacombe Nelle catacombe Romane Tra le prime Immagini Della Vergine Vi è quella Che oggi Noi chiamiamo Madre di Dio Del segno Allora Non era intesa così Ma allora Era già una Raffigurazione Simbolica Di grande forza Di grande impatto Di grande devozione Che accomunava L'intera Comunità Dei credenti Opera Della Russia Centrale Di alta epoca Dicevamo Levkas Il fondo Inavorio Che vediamo Rimasto E poi Questa veste Purpurea Il manto Della regalità Di Maria Il nimbo Dorato Non è un aureola Nell'arte bizantina Ma è un nimbo Pieno Esattamente Come nel nimbo Crucifero di Cristo Che porta Incisa La croce E i monogrammi Con cui Dio padre Si manifestò A Mosè Sul monte Sinai Colui che è Io sono Colui che sono Andiamo Accanto E troviamo Proprio La madre Del segno Davide Orler 2004 La data Di realizzazione Svalti Su tela 95 per 88 cm Ecco L'arte Dell'icona Che Porta Vita Porta Visione Porta Una dimensione Mistica Nell'espressività Di Davide Orler Ha scritto Monsignor Timothy Verdon Che abbiamo ascoltato Nella documentario Con cui abbiamo aperto La nostra trasmissione Nel catalogo Nel catalogo Non avrai altro Dio All'infuori di me Dedicato al decalogo Altro grande ambito Di riflessione Di Davide Orler Cioè La tavola Dei dieci comandamenti Ha scritto Monsignor Verdon Davanti a queste Straordinarie Moralità Dipinte Viene a mente L'insegnamento Di Giovanni Paolo II Secondo Cui la riscoperta Dell'icona cristiana Aiuterà A prendere Coscienza Dell'urgente Bisogno Di reagire Contro gli effetti Spersonalizzanti E spesso degradanti Delle molteplici Immagine Che condizionano La nostra vita Nella pubblicità E nei media Sono parole Di San Giovanni Paolo II Papa Voitiwa Aggiunge Verdon Affermava Che in una situazione Di crescente Secolarizzazione Della società Che così diventa Estranea Ai valori Dello spirito L'arte sacra Ci dà accesso Alla realtà Del mondo Spirituale Ed escatologico Parole un po' complesse Per dire Il mondo spirituale E delle realtà Ultime L'arte sacra E l'arte moderna Ecco questa Visione Di Davide Orler Se l'icona È rappresentazione Attraverso Un percorso mistico Che l'iconografo Compiva Non tutti Erano Nascevano Iconografi Vi era un profondo Processo Di selezione Oggi siamo abituati Al fatto che Molti sono Diventano iconografi Anche per auto Elezione Un tempo Vi era un attento E meticoloso Processo di selezione Non tutti erano Degni Ma in questo dipinto L'immagine Diventa Visione E' come se Davide Orler Avesse Tentato Di riprodurre Sulla tela Ciò che aveva Nella sua Profondissima Interiorità Contemplato Ci accorgiamo Mentre parliamo E mentre camminiamo In questo percorso Che vi è in Davide Orler Molto di Dantesco Una ricerca Un'esperienza E uno sforzo Espressivo Allo stesso tempo Che si dilata E che si ripete Nella Assoluta Consapevolezza Di non raggiungere Mai La perfetta Unione Tra l'arte E il messaggio Tra ciò che Davide Orler Vuole dire E ciò che riesce A dire Con i limitati Mezzi dell'uomo Questo è il tormento Che accompagna Dante Nella Divina Commedia E soprattutto Nel Paradiso La memoria Che fa difetto La mente Che non riesce A dire Quel che L'intelletto Ha incontrato E il canto Secondo Della Divina Commedia Quando Dante dice Che raramente La memoria Seconda Quel che L'intelletto È riuscito A conoscere Ecco in questa Madre di Dio del Segno Vi è un'intelligibilità Dell'immagine Ma vi è una fatica Un travaglio Un tormento Rappresentativo Che è dato Da questa Ampia gestualità Questo desiderio Di Di raccontare Una luce Prima che Una visione Perfetta L'icona È visione Perfetta L'arte Di Davide Orler Non vuole E non può Esserlo Perché Tornando a citare Don Renato Lafranchi Davide Orler Non voleva Imitare le icone Le aveva capite Troppo bene Per cimentarsi In qualcosa Che sarebbe risultato Troppo basso Per lui Ma guardiamo Questi tratti Del manto Di Maria Pochi segni Incisivi Di pennello Eppure noi Ci vediamo Tutto quello Che la madre Di Dio Del segno Accanto Riesce a dirci Nella sua impeccabile Quasi trascendente Perfezione Ringrazio Chi Ci chiede Di rivedere Ancora per un istante La crocifissione Del 1963 Che abbiamo Cercato di Illustrare Con Grande Passione Per la Forza E per la Ricchezza Di un dipinto Che è Assolutamente Straordinario E forse Benché questo itinerario Sia animato Sia Abbeverato Dall'icona Forse lo è Ancora di più Proprio perché Qui siamo Nel tempo Prima dell'icona L'arte sacra Di Davide Orler È Un prima E un dopo L'icona In questa Crocifissione Vi è L'interiorità Di Davide Orler Che guarda Al mistero Religioso Al mistero Della fede Al mistero Dell'arte sacra Con La rielaborazione Dei contenuti Che egli Si portava Con sé Dal suo Cammino Formativo E dalla Sua infanzia Certo Davide Orler In Marina Aveva Sacrificato Un intero Congedo Utilizzando La colletta Dei compagni Di leva Per raggiungere Dalla Sicilia Torino Dove il grande Pittore cristiano Ruhol Teneva Una sua Mostra E si era Abbeverato Di quell'arte Ecco chi c'è Prima delle icone C'è Ruhol Che si dice Sul finire Della sua vita Quando allestiva Mostre Stava sulla porta E chiedeva A chi le voleva Visitare Se fosse cristiano Oppure no A chi diceva di no Suggeriva Che fosse inutile Entrare a vedere I suoi quadri Un imprinting Che toccherà Da vicino Davide Orler E che lo porterà Per molto tempo Anche nel momento In cui La sua esperienza Del sacro Si arricchirà Della dimensione Dell'icona Crocifissione Ricordiamo anche Le dimensioni 120 x 75 cm Siamo nel 1963 Abbiamo poi Veduto E le possiamo Rivedere di passaggio La madre di Dio Del segno In icona Russia centrale E la madre La madre del segno Che Davide Orler Dipinge Su tela E poi andiamo Alla madre di Dio Di Corsun 1600 l'epoca 31 x 27,5 Siamo a Mosca Siamo nel cuore Dell'immagine Della tenerezza La bandiera Il vessillo Di Russia E la madre di Dio Della tenerezza Di Vladimir La vergine Che abbraccia Il bambino Ma che vediamo Praticamente A figura intera La madre di Dio Di Corsun Corsun è una città Della Russia Entra e sintetizza Invece Tutta la forza Dell'abbraccio L'abbraccio Della vergine E del bambino In un momento Che è Emblema Della tenerezza Materna Ma è anche Presagio In Maria Di quanto Quel bambino Dovrà compiere E dovrà soffrire Per portare a termine Il disegno divino Su di lui Quello Della nuova salvezza Dell'umanità Quello Della nuova alleanza Ecco l'abbraccio Icona del 1600 Mosca Eccezionale Immagine Guardiamo L'intensità Di questo Volto del bambino Che guarda Maria E il volto Di Maria Che guarda Noi Che guarda Noi E ci invita A diventare Parte di Quell'abbraccio Che immagine Signori Che immagine Queste erano Le icone Che cercava Che sceglieva Che voleva Davide Orler Ma vi è Un'attenta lettura Dell'abbraccio Della tenerezza Che appartiene Al tempo Più recente Tanto in Russia Quanto in Occidente Secondo la quale Certo In quell'abbraccio Vi è la maternità E infatti In Russia Si usa Regalare L'icona Della tenerezza L'icona Di Korsun Alle neomamme A coloro Che stanno Per avere Un bambino A coloro Che sono Appena diventate Mamme Ma vi è una Visione Secondo la quale Nella dimensione divina L'abbraccio non è Della madre Verso il figlio Ma prevalentemente Del figlio Verso la madre E' lui Che dà forza a Maria Rispetto alla sofferenza Per il mistero Che attende Quel fanciullo E' lui Che porta a Maria La forza Di credere Che quanto Sta accadendo Dinanzi ai suoi occhi E in Maria C'è in questo senso Ciascuno di noi E' vero E' reale E' concreto Ebbene Questa è una lettura Moderna Moderna Nel senso di Una delle ultime Elaborazioni Di studio iconografico Che riguardi Questa immagine Plurisecolare Ma guardate Accanto Che cosa ci manifesta Davide Orler La madre di Dio Di Corsun Ha un eccezionale Capovolgimento Prospettico Davide Orler Intuisce Intuisce Ben prima Dei grandi studiosi Dell'iconografia Che l'abbraccio di Corsun Che l'abbraccio della tenerezza E' un aggrapparsi della madre All'apparente fragilità All'apparente fragilità Del figlio Certo In questo dipinto Straordinario La mamma La mamma Maria con Gesù Del 2004 E 4 Cristo è adulto Cristo è avanti Negli anni E guardate L'espressione Di questa madre di Dio Che è aggrappata A lui Con tutte le sue forze La straordinaria intensità Che è riflesso Specchio E capovolgimento O meglio Esplicitazione Di quanto La madre di Dio Di Corsun Cela In una lettura Più elevata E più nobile Del semplice Scorgere Una madre E un bambino Che si abbracciano Cristo Rincuora La madre E vi è in quella madre La maternità Di ogni tempo Vi è in quella donna La donna Di ogni tempo Vi è in quella figura L'umanità intera Che si aggrappa Guardiamo queste mani Tratteggiate Anche qui Con ampie Ampie Scorse di pennello E di spatola Ma A simboleggiare Un avvinghiarsi Che cos'è Che cos'è Questa immagine Che Davide Orler Non chiama tenerezza Non chiama Visione Non chiama abbraccio Ma chiama semplicemente Maria con Gesù Leggendo in questa Comune appartenenza Una unità Unità Che pervade E che irraggia Dal salvatore Guardiamo anche Lo studio Sui colori di fondo L'attenta definizione Dell'imitazione Degli spazi Per quanto Concerne Ciò che non è Semplicemente Figura Ma è parte Della figura Stessa Grande Grandissima opera Del 2007 Di Davide Orler È una figura Femminile Ma Verrebbe quasi Alla memoria Per chi ha avuto Modo di incontrarlo E di conoscerlo Proprio in quegli anni L'abbracciare Incondizionatamente Senza limiti Senza pudori Senza reticenze Cristo Nel Davide Orler Del suo cammino Faticoso E sofferto Nella malattia Mamma Con Gesù Maria Con Gesù 2004 L'anno Di realizzazione 95,2 Per 65 Centimetri Smalti Sutela Grandissima opera Di Davide Orler E ora entriamo Quasi in un crescendo Rossiniano Nelle rappresentazioni In alcune rappresentazioni Che verrebbe da dire Meno intimiste Dalla madre di Dio del segno Alla crocifissione Alla dormizione All'annunciazione E più epiche Sempre nell'ambito Dell'arte sacra Da parte Di Orler Viene L'Antico Testamento L'episodio Di Sant'Elia Non sarà un caso Non sarà un caso Naturalmente Che Orler Rifletta a lungo Sui due episodi Sui due episodi Unici Nell'Antico E nel Nuovo Testamento In cui una Persona umana Una figura umana Scende al cielo Due soli sono La madre di Dio Nel Nuovo Testamento E Sant'Elia Nell'Antico Testamento Il grande profeta Che dopo aver Educato le genti Dopo essersi Rifugiato nella grotta Questo è il centro Dell'icona In isolamento In ritiro Deluso Dalla superficialità Di coloro i quali Egli cercava Di ammaestrare E poi invitato A tornare Tra la gente Dall'Angelo Viene poi Portato in cielo Su un grande Carro di fuoco Che lo trascina Tra le fiamme Nell'Empireo Celeste Grande icona Stiamo sempre parlando Di opere provenienti Dalla collezione Privata e personale Della famiglia Orler Siamo nella Seconda metà Del diciottesimo secolo 91,7 Per 70 cm Grande opera Da iconostasi Grande opera Da epopea Ma epopea Anche figurativa Abbiamo un ricchissimo Un ricchissimo Apporto Figurativo All'interno dell'icona Anche con scene Che vi sono Più spesso Vi sono meno spesso Nella rappresentazione Di Sant'Elia Di quanto siamo Abituati a vederne Anche La predicazione Di Sant'Elia Anche il risveglio Da parte dell'Angelo E poi Il suo incamminarsi Con il discepolo Eliseo Colui al quale Poi nel momento In cui Il carro di fuoco Porterà Sant'Elia In cielo Lascerà Il suo mantello E ad aspettarlo Dai cieli aperti Ad aspettare Ilia Vi è L'antico Dei giorni Il dio Di Sabaoth Che avevamo già Individuato Nella grande icona Della crocifissione Vale la pena Di sfuggita Notare Come anche dal punto Di vista pittorico Nell'icona Vi sia Un accento Non trascurabile Di modernità Se è vero Che l'icona Ha interpellato La sensibilità E la coscienza Dei pittori Del primo novecento russo Delle vanguardie Da Kandinsky A Malevich A Chagall Ricordiamo sempre Con accostamenti Che vanno fatti Con molta prudenza E con grande attenzione Non in maniera Indiscriminata Certamente A suggestionare L'espressione Genuina Di un'arte Di popolo Vi è per esempio Proprio questo Fuoco Che avvolge Il carro Carro Che altri Non è Che la trasposizione Iconografica Di un carro Del mondo contadino Quello con cui Di norma Si effettuava Il raccolto E si svolgevano Le mansioni Nei campi Questa rappresentazione Maestosa Straordinaria Moscovita Della seconda Dell'ultima parte Del diciottesimo secolo Quindi del 1700 Diventa Nel 1996 Nell'arte Di Davide Orler Questa è una rappresentazione Monumentale Siamo a 162 Per 157,5 Quest'altra immagine Davide Davide Si accontenta Qui Si fa per dire Di due istanti Che nell'icona Erano riccamente rappresentati Sant'Elia Che viene Che viene Nutrito Dal corvo Mentre si trova Nella grotta E poi Il discepolo Eliseo Al quale Elia Lascia Il suo Mantello Prima di essere Trasportato Verso La volta Celeste Perché Questi due Momenti E non altri Ma Intanto Vediamo anche Il lavorio Pittorico Sul quale Orler Orler si è Concentrato Per quest'opera Monumentale E forse Una delle più Significative Degli anni 90 Il nutrimento Il corvo Che porta Il cibo Al profeta Poco Centellinato Ma Necessario Ed Indispensabile Dall'altra parte Il corvo Lascia Il cibo Elia Lascia Il mantello Il corvo Pensa Alla materia All'uomo Elia Che non è Su un carro Di fuoco E' avvolto In un turbinio Di fiamme Che ovviamente Non lo scottano E' ingenuo Il notarlo Ma non è Trascurabile Il particolare Non c'è solo Un carro Che va C'è un turbine Che porta E che porta Verso una presenza Che è sì L'antico Dei giorni Ma che è Una immaterialità Assoluta E tocchi ampi Di spatola Di pennello È materia E non è materia Allo stesso tempo Certo C'è un carico Materico Non trascurabile Ma al tempo stesso C'è Lo sfuggire Dell'immagine È come se noi Captassimo Un flash Che rimane E non rimane Ma evoca Una presenza Reale E concreta E questa presenza Reale E concreta Insieme al fuoco Che avvolge Elia Irraggia Ed illumina Tutto Il creato La montagna E il fiume Che Eliseo Supera E supera Simbolicamente Con un solo passo Come se Il protendersi Verso il mantello Di Elia Gli desse una forza Sovrumana La forza sovrumana Che in fondo Conferisce la fede La capacità Di andare oltre La fatica E limitare Quotidiani Lo dicevamo già Per quell'incroce Quel dipinto Che abbiamo visto Poc'anzi In un passo Ecco Eliseo Che diventa Tutt'uno Con il suo maestro Il maestro Che si era Rifugiato Nella grotta Infatti Quella luce Non profonde Ancora Questo altro Ambito Rappresentativo Che resta Per un istante Colto Nel buio In realtà sarebbe Questo il punto Di partenza Per la lettura Del quadro Colto ancora Mentre Elia Vive Il tempo Della sfiducia E lì è nella grotta Perché non si sente Più ascoltato Un po' come L'artista stesso Che sentiva Di avere un messaggio Da comunicare Ma che spesso Si vedeva O tradito O travisato Da una corrente Che sembrava Volgersi Altrove Sono certo Infatti Scriveva ancora Davide Orler Nella sua Autobiografia Che chi ama L'icona Non può Non approdare Ad un certo punto Una qualche Forma di preghiera Connaturata All'essenza Stessa Dell'opera Pare Che questo Riferimento Non abbia Attinenza A quanto Stavamo dicendo Invece ne è La precisa Espressione L'icona Infatti Tende a Farsi pregare Chiede La meditazione Soprattutto Quando è Di alto Livello Dalla Meditazione Derivavano I dipinti Di Davide Orler E c'è una ragione Ben precisa Quando l'iconografo Prima di iniziare La sua impresa Si inginocchiava E rimaneva In raccoglimento Per giorni interi Cercando Per dir così Di entrare In contatto Di aprire La propria anima A Dio Cominciava Un percorso Che poi Nell'icona Che è stata Definita A buon diritto Immagine Dell'invisibile Seguita A riflettersi Ancora oggi Intatto Come allora E' una verità Che la mia esperienza Mi ha testimoniato Anche per l'arte Religiosa Di oggi Per accostarvisi Non si può Prescindere Dalla preghiera Si prega Per fare Il dipinto sacro Diceva Davide Orler Non ci si limita A riprodurre Qualche cosa Di già visto Che magari Ha emozionato Altrimenti Si finisce Per correre Come pazzi Dietro a qualcosa Di indefinito Senza però Riuscire a dare Al soggetto Quell'afflato Quello spirito Che lo trasfigura In qualcos'altro Rispetto Alla semplice Raffigurazione Questo è il punto Cruciale Per l'artista Di oggi Come per L'iconografo Di ieri Ecco perché Ho detto E ripeto L'arte Per l'arte Non serve È utile Se mai Solo a distrarre L'uomo Rispetto ai veri Problemi Alle grandi Domande Della vita Mi preme Riaffermare Che tra L'esperienza Dell'icona D'Oriente E l'arte Religiosa Di oggi Esiste Un continuum Che pur In contesti Culturali E socio-economici Completamente Diversi Non possiamo Pensare Né di spezzare E neppure Di ignorare Questo Era Il credo A cui Davide Orler Ha uniformato L'intera Sua vita E se noi Accostiamo Accanto La visione Dell'icona E del dipinto Ecco che Scopriamo Questo continuum Perfetta Questa inquadratura Io devo ringraziare Anche I nostri Tecnici Alessandro La telecamera Marcello Alla regia Che con tanta Precisione Ci stanno seguendo In questa serata Anche con le schede Dedicate Che vedete Andare in onda Dipinto Dopodipinto Perfetta Questa inquadratura Che simboleggia Davvero il continuum Che dalla grande Importantissima Icona Moscovita Della fine Del XVIII secolo A proda Fino Al dipinto Di Davide Orler Andiamo A rimarcare Questo continuum Anche Nell'accoppiamento Che Giunge Accanto Il Cristo Pantocrator Il Cristo Signore Di ogni cosa Che noi Trasliamo In Cristo Benedicente Ma il Pantocrator È in realtà Il Signore Di ogni cosa La mano Benedicente Appunto Il libro Del Vangelo Aperto Portiamo la mente A Ravenna Portiamo la mente A Monreale Portiamo la mente Alla Cappella Palatina Di Palermo Portiamo la mente Alla Basilica Di San Giovanni Di San Paolo Fuori le Mura Portiamo la mente Alla Basilica Paleocristiana Di Santa Maria Intrastevere A Roma E vediamo Questo volto E vediamo Questa mano E vediamo Quel libro Del Vangelo Aperto Sulla frase Che nell'icona russa Resta scritta Nello slavonico Della Chiesa La lingua Usata Dalla Chiesa E coniata Dai Santi Cirillo E Metodio Per evangelizzare I popoli Dell'Est Io sono La risurrezione E la vita Chi crede in me Ha la vita Eterna Oppure Venite a me Voi tutti Che siete affaticati Oppressi E io Vi ristorerò Siamo Nella seconda parte Del 1700 La regione È quella Di Vladimir Siamo Nei pressi Di Mosca Vladimir È una cittadina Che dista Giusto Qualche decina Di chilometri Dalla capitale Luogo Di prima Venerazione Dell'altra Madre di Dio La madre di Dio Di Vladimir Che da qui Prende il nome Ma in realtà Era stata Portata a Kiev La prima città Del battesimo Della Russia E qui Ci sarebbe molto Da dire Su quanto I tempi moderni Segnalino Dei rapporti Tra Kiev E Mosca Essendo Kiev La sorgente Della fede russa E oggi invece Contrapposta Al resto Della Russia Dall'Ucraina Da conflitti Sanguinosi E drammatici Regione Di Vladimir Fine Del 1700 Il cuore Dell'icona È certo La mano È certo Il Vangelo Ma è certo Anche Soprattutto Questo Straordinario Volto Di rara Intensità Un volto Che non è Di giudice Ma è Di misericordia Ci ha Insegnato Papa Francesco A utilizzare Di nuovo E ad avere Di nuovo Familiarità Con questa parola La parola Della Misericordia Un volto Misericordioso Che ci ricorda Che colui Al quale Ci rivolgiamo Non ci aspetta Come Una tagliola Della punizione Ma ci accoglie Come figli Sempre perdonati Perdonati Prima di chiedere Perdono Se passiamo Dall'icona All'immagine Icona Numero Scusate Dipinto Che abbiamo Numerato Al 16 Nel nostro Itinerario Siamo Nel 2004 94,5 Per 95 Centimetri Nella scheda Vedete accanto Anche un'icona Che vedremo Tra poco Ma Qui Sono state Collocate Il Pantocrator E questo Volto di Cristo Che Davide Orler Chiama Soltanto Gesù È un Gesù Che soffre Con termini Cari al mondo Cattolico Meno familiari All'icona russa Perché L'icona bizantina Non parla latino Verrebbe da chiamarsi Christus Patiens Cioè Il Cristo Che è Colui Che soffre Nella parola Paziente Vi è Non la pazienza Ma la capacità Di soffrire E di sopportare Con Rassegnazione Al tempo stesso Con fiducia Il cammino Del patire Ma il Cristo Paziente È anche colui Che sa Soffrire Nell'attesa Del ritorno Di un figlio Prodigo Che abbia di nuovo Il desiderio Di paternità C'è da Sottolineare Una volta di più Il fatto che Queste ampie Immagini Di Davide Orler Qui non siamo Al monumento Di Sant'Elia Ma comunque Ha una dimensione Molto interessante 94,5 Per 95 Centimetri Sostanzialmente Un quadrato Perfetto Venga fatto Sempre di più Con una gestualità Ampia Raccontano i mistici Nei loro Nei loro diari Raccontano i veggenti Nelle loro testimonianze Che cercano di rendere Che cosa hanno veduto Che l'incontro col mistero Con la Vergine Maria Con Cristo E' fatto di evanescenze E' fatto di evanescenze Non è una visione perfetta Ce lo raccontano I ragazzi I fanciulli di Lourdes I pastorelli di Fatima Ora Per quanto la chiesa Non si sia pronunciata I veggenti di Međugorje E' più luce Che fisionomia E' più visione Che presenza E' più baluginio Che Precisa Delineazione Di volti E di sembianti Sembra che Davide Orler In questo suo percorso Di ricerca Dà una definizione Molto precisa Come quella Che abbiamo visto Nell'annunciazione Del 1960 In quella straordinaria Crocifissione Del 1963 Procedendo nella ricerca Si renda conto Che invece L'immagine E' più fedele Al vero Della meditazione Quando prende Questo ampio respiro Quando prende Questa mano Che quasi Si libera E si libra Sulla tela Per andare a raccontare Un'immagine Non c'è più Il desiderio Di descrivere Un particolare Di delimitare Un dettaglio Di cogliere Una Piccola percezione C'è la voglia Di comunicare Una forza Che arriva Attraverso L'immagine Il continuum Dall'icona All'arte sacra Moderna E contemporanea È esattamente questo Il dire Con un linguaggio Nuovo La perenne Novità Del messaggio Cristiano Io sarò con voi Tutti i giorni Fino alla fine Del mondo Come sia vicino A noi Cristo Cristo Va scoperto Giorno Giorno dopo giorno Giorno dopo giorno In un incontro In una lettura In un gesto In un atto In un'opera D'arte Davide Orler È colui Il quale Soprattutto E tra pochissimi Nella seconda Parte del novecento Ha saputo Raccontare La perenne Novità Del messaggio Cristiano Nota Ancora Monsignor Timothy Verdon Il punto È chiaro L'arte Ha a che fare Col peccato E col perdono Segna Una radicale Scelta Da parte Del popolo E materializza La promessa Di Dio Di camminare In mezzo Adesso Come presentata Nell'Antico Testamento L'arte diventa Uno dei segni Del patto Sussistente Tra l'uomo Peccatore E il Dio Che perdonando La colpa Cammina In mezzo Al suo popolo È quasi Un sacramento Della presenza E della salvezza Che Dio Offre Un sacramento Della presenza E della salvezza Che Dio Offre Ed è in questo senso Che Orler Ce la presenta Ce la presenta Anche guardando All'esempio forte Fulgente Dei Santi Sant'Elia Lo abbiamo visto Sant'Elia Lo abbiamo visto San Giorgio Andiamo a guardare L'icona Un'icona Capolavoro San Giorgio Il Vittorioso Fine del XVII secolo Siamo alla fine Del 1600 Mosca 31 per 27,5 L'immagine è quella Familiare per molti Cioè Il San Giorgio A cavallo Che uccide il drago Mentre Al di sopra di lui Un angelo Gli pone in capo La corona del martirio San Giorgio È un grande martire Nel senso che Patisce anche Molte sofferenze Prima di Giungere al martirio Finale Ovviamente Santo per i cristiani D'Oriente Come per i cristiani D'Occidente È un martire Dei primi secoli Anche figura Avvolta In parte Nella leggenda E nel mistero Nell'atto In cui Uccide E sconfigge Il drago Dai cieli Aperti Vediamo Affacciarsi L'atto Benedicente Di colui Che non vediamo Ma che c'è E poi A testimoniare La straordinaria Ricchezza Di un'arte Iconografica Che sì Forse lo abbiamo detto Di sfuggita E vale la pena Sottolinearlo Rimanda A canoni Codificati Dalla chiesa L'iconografo Non aveva La libera ispirazione Non era Nella liceità Di fare ciò che voleva Secondo il suo gusto Le icone Erano rivelate Nel mistero Alla chiesa La chiesa Se ne faceva Custode E l'iconografo Era tenuto A Attenersi A quei modelli Che la chiesa La definiva Rivelati Ovviamente Nell'attinenza A questi canoni Ecco perché Diciamo Talvolta Anche forse In maniera Un po' eccessiva Che le icone Sono contrassegnate Da una certa Ripetitività Non c'era Una grande libertà Di movimento Ma c'era però La possibilità Per l'iconografo Nell'interno Di quei canoni Che abbiamo citato Di quei modelli Di quei prototipi Di dare spazio Anche a una propria Particolare sensibilità È il caso Di quest'icona Moscovita Dove sì È vero San Giorgio È la figura Principale Ma il drago Racconta la leggenda Teneva Prigioniera Un intero regno Un'intera Città E per non Sfogare Le proprie ire Sull'intera città Il drago Malefico Chiedeva Il sacrificio Delle figlie Primogenite Degli abitanti Alcune di loro Vengono sacrificate Al drago Ma quando tocca Alla figlia del re Alla principessa Il re Supplica Che alla giovane Sia data salva La vita I concittadini Si ribellano Dicono come Noi abbiamo accettato Di immolare Le nostre figlie E tu Proprio tu Che sei il sovrano Ti vuoi tirare indietro? Ma in quel momento Arriva San Giorgio E il prodigio Si compie L'iconografo Qui Non si limita A raffigurare La principessa Ma ci rappresenta Un'intera città Dalla quale Gli abitanti Soggiogati Dal timore Del drago Si affacciano Presi Dalla paura E dal panico Riponendo Le loro speranze Proprio In San Giorgio Icona Strepitosa Icona Museale Icona Delle icone Che Davide Orler Soleva scegliere Per appagare La propria sete Di bellezza Di bellezza Diceva il grande Evgeni Trubetskoi Uno dei grandi critici Dell'arte iconografica russa Citando Dostoevsky La bellezza Salverà il mondo Gli iconografi russi Hanno conosciuto Questa bellezza E l'hanno resa Immortale Nei colori Queste erano le icone Che Davide Orler Cercava Per appagare La sua sete Di bellezza E da queste icone Vedeva Vedeva il continuum La principessa Il cuore Dell'immagine Come il cuore Dell'icona Certamente è La vittoria Possibile Dell'uomo Sul male La vittoria Possibile Dell'uomo Sul peccato La vittoria Possibile Dell'uomo Sulla morte Ci sono i grandi modelli Che la storia della cristianità ci ha affidato E nei quali Davide Orler credeva incondizionatamente Perché la fede O è fede incondizionata O non è fede È riflessione È meditazione È speculazione È ricerca È studio È approfondimento Ma non è fede La fede La fiducia La fiducia in qualcosa di soprannaturale O non conosce condizioni O non può chiamarsi fede Nel momento stesso in cui Davide Orler si accostava Alla rappresentazione di questi soggetti Esprimeva la propria adesione incondizionata A quanto queste immagini comunicavano La certezza Di un messaggio che non muore Nella caducità Delle cose umane C'è la domanda Ma se altre immagini erano più Diciamo così evanescenti Perché visioni L'immagine di San Giorgio è storica È codificata Stava nei simboli della città di Mosca I punzoni argenti della città di Mosca Sono San Giorgio San Giorgio è il santo emblema Prodromico di uno stato intero Come la Georgia Georgia ex Unione Sovietica Repubblica di Georgia Non Georgia Stati Uniti E allora perché qui non Un ritratto realistico Di San Giorgio Perché non una forma più Consona a modelli Iconografici Perché Davide Orler Non copia le icone Le aveva capite troppo bene Per copiarle Questo è il leitmotiv Del nostro percorso insieme di questa sera Le meditava Le conosceva Ma il dipinto è di Davide Orler Davide Orler non è un iconografo Davide Orler si firma Nei suoi dipinti e nei suoi quadri Data i suoi dipinti e i suoi quadri Contrariamente a quanto facevano gli iconografi Che tra le altre cose non potevano firmarsi Perché non erano artisti Che dovevano affermare la loro personalità Ma erano tramiti Tra l'uomo e Dio E allora L'artista fa proprio Il messaggio che vuole Veicolare E lo veicola Secondo il suo stile E secondo le proprie caratteristiche e capacità Nell'arte sacra Chiunque veda questo dipinto Non può Non trovarsi Non può Non identificarlo Come dipinto Che pone di fronte A un'opera di Davide Orler Guardiamo come il rosso del mantello Che è la caratteristica peculiare e tipica di San Giorgio Pervade e avvolge tutta la figura Non solo uno svolazzo Come accade invece nelle icone In cui è dominante l'armatura del guerriero E poi questo cavallo Che è l'unica cosa Più vicina a quanto la natura Ci permetta di conoscere Il cavallo Gli alberi dell'annunciazione E L'animato della natura O l'inanimato della natura In cui è riconoscibile l'impronta di Dio Ma che non ha la consapevolezza di Dio Il cavallo Non ha la conoscenza di Dio L'albero Non ha la conoscenza di Dio È creazione di Dio Ma non ha la coscienza Del suo creatore L'uomo sì Il santo sì Il martire sì E quindi il pennello dell'artista Ce lo mostra come trasfigurato In un'altrove che è L'incontro col mistero Che fa nuove tutte le cose E verrebbe da dire In un'ottica artistica Fa diverse tutte le cose Il santo che illumina Il dipinto E rende buio E lascia buio Solo il segno estremo del male Il drago che colpito dalla freccia Viene quasi fagocitato Dalla terra Che gli sta intorno San Giorgio 1997 99 per 90 Davide Orler Smalti Su tela Anzi su tavola Chiedo scusa Su tavola Accanto troviamo Un'altra icona di valore assoluto Sempre 1600 Russia centrale La Trinità angelica O come siamo abituati a Definirla Con una espressione più familiare Che ci rimanda Alla Trinità Più celebre Dell'arte iconografica russa Ovvero la Trinità di Andrei Rublov Che oggi può essere ammirata E molti ammirano Alla galleria Tretiakov di Mosca E la raffigurazione Veterotestamentaria Dell'apparizione Dei tre angeli Ad Abramo e Sara All'ombra della quercia di Mamre Russia centrale 1600 Una certa abitudine Alle immagini Ci ha portato A riconoscere Nella Trinità Dell'Antico Testamento I tre angeli Perché così Andrei Rublov li rappresenta Tre angeli Riducendo All'essenzialità Della rivelazione Quanto l'Antico Testamento Narra Avvenuto all'ombra Della quercia di Mamre Questi tre viandanti Che si presentano Al Patriarca Abramo E a sua moglie Sara Chiedono ospitalità Vengono ristorati Vengono portati A ristoro Dalla accoglienza Del profeta E della moglie Ma Rublov Depura L'intero episodio Fermandosi A quella che è la fine Quando i tre viandanti Se ne vanno Abramo e Sara Riconoscono La manifestazione Della Trinità Del mistero Trinitario Nella rappresentazione Più tradizionale Dell'icona In realtà Come in questo caso Perché L'insegnamento Di Rublov Non diventa Vincolante Per la Chiesa Che nel 1580 Riconosce All'icona di Rublov Nel Concilio Dei Cento Capitoli La dignità Di icona rivelata Lascia sopravvivere Invece La presenza Di Abramo e Sara Come artefici Di quell'ospitalità Artefici Al punto Da ordinare Al servo Di sgozzare Il vitello Più grasso Memoria Che sarà anche Nella vicenda Del figliore prodigo Per onorare I tre Grandi Ospiti La simbologia Che sta Sulle Retro Dei tre angeli La casa Che è la casa Di Abramo e Sara Ma è anche Il tempio Di Gerusalemme La quercia Di Mamre Che è anche L'albero Della fede Il rigoglio Dell'albero Della fede La montagna Che è il segno Di ciò che si costruisce Sulla roccia Nella sequela Dell'insegnamento Cristiano Rispetto a quanto Questo è Paragone evangelico Viene costruito Sulla sabbia Se L'icona E molte Icone Interpretano Il racconto Della Trinità Dell'antico Testamento Davide Orler Nel suo Monumentale Dipinto Che abbiamo Collocato Sul nostro set Celebra La gloria Della Trinità Dell'antico Testamento 1997 205 Due metri E 05 Per 120 E guardiamo qui Che meraviglia Che magnificenza Questi Tocchi con il tampone A rappresentare Il cielo E a rappresentare La quercia Di Mamre Che è quanto Mai fresca Rigogliosa E viva Come se Vivesse di fronte Al mistero Degli angeli Una nuova Primavera La Trinità Non ha Distinzione Di vesti Davide Orler Non è interessato Come alcune speculazioni Sull'arte Dell'icona A chi è Dio Chi è lo Spirito Santo Chi è il Cristo Li pone Tutti e tre L'uno Accanto All'altro Anche se Come Forse qualcuno Sa Una consolidata Tradizione E poi E poi riconosce Già nell'icona La figura Più a destra Rispetto a chi Guarda come lo Spirito Santo La figura Al centro Con la mano Benedicente Come in questo caso A evocare L'ultima cena Come Cristo La figura A sinistra Come Dio Padre Ma qui non conta Qui la Trinità È una Etrina Allo stesso tempo Come vuole L'insegnamento Della Chiesa E della fede cristiana Non ci interessa Identificare Le tre persone Sono lì Tre ed una Accanto a loro A Contrassegnare Quell'ospitalità Abramo La cui Fisionomia Invece È molto Ben definita Che porge Come dei frutti Come Dei Dei raccolti Freschi Dalla terra La terra La terra Il luogo stesso Creato Dalla Trinità E accanto La consorte Sara Nella quale Intravediamo Quasi Uno sguardo Che è quello Già Della madre Di Dio Queste due figure L'una accanto All'altra Se quella Al centro È Cristo Questa Sara È già La madre Di Dio È già La vergine Maria C'è anche Una singolare Ma proprio Perché non c'è Un'esigenza Di copiatura Ma Una ispirazione Trasposizione Di elementi La quercia Fa ombra A tutti Praticamente Gli ospiti Di questa Tavola Prodigiosa La casa Sullo sfondo E la montagna Che avvolge Tutti I protagonisti Di questo quadro E di questa Immagine Un quadro Monumentale E di una Intensità Straordinaria Abbiamo detto 1997 Importantissimo dipinto Di 205 cm Per 120 Abbiamo citato Abbiamo citato Prima A proposito Della madre Di Dio Di Corsum La tenerezza Abbiamo citato Il prototipo Della madre Di Dio Di Vladimir La madre Di Dio Della tenerezza Di Vladimir E allora Ecco Che la madre Di Dio Di Vladimir Giunge Dinanzi Ai nostri occhi In questa Icona Della fine Del 1500 Del 1500 Mosca 30,8 Per 25,5 Abbiamo parlato Di abbraccio Non stiamo a Soffermarci ulteriormente Su contenuti Che abbiamo Già toccato Sia pure Molto fugacemente Ci sarebbe Molto altro Da dire Rispetto Alla madre Di Dio Di Corsum Che abbiamo Notato E riscontrato Qui c'è L'abbraccio Della figura Intera Del bambino E della vergine A mezzo busto Il bambino Solleva Il piedino E pone la sua mano Intorno al collo Della vergine Maria Intensissime Anche qui Le espressioni C'è chi vuole Che Le espressioni Dei volti C'è chi vuole Che L'arte E la spiritualità Dell'icona Sia condensata Sia racchiusa Proprio Nelle opere Che arrivano Fino alla fine Del 1600 Vi è poi Una questione Storica Riguardo all'arte Dell'icona In Russia Cioè il fatto Che dal 1700 In poi Soprattutto nella seconda Metà del 1700 L'arte russa Viene influenzata Pesantemente Dagli stilemi Da certi Da certi Vezzi occidentali O occidentalizzanti Peraltro Il patriar Lo zar Pietro il Grande Abolisce il patriarcato E quindi In qualche misura Laicizza La chiesa stessa Affidandola alle cure Di un Oberprocurator Cioè Un laico Che si occupa Degli affari Di chiesa Questa lettura È stata poi Fortunatamente Molto ridimensionata Riconoscendo anche Le icone Settecentesche Ottocentesche Una nuova forma Di espressività Spirituale Che non intacca La forza Dell'icona In sé Connaturata Ma Certamente Quest'icona Della seconda Parte Del 1500 È paradigmatica Di ciò Che un'icona È Dovrebbe essere Ed è stata Per secoli L'icona Non è un'arte Della moda Non è un'arte Che va O che viene L'icona È un'arte Che da Duemila anni Accompagna I cristiani In ogni Angolo del mondo Pensiamo Alle icone Etiopi Pensiamo Ad alcune Rappresentazioni Di Cristo E di Maria Persino Del Sud America Quindi Cerchiamo Di andare Anche oltre Quello Che è il Perimetro Di un'esperienza Di collezione Che si è Concentrata Molto Sulla Russia Abbiamo Detto Che Davide Orler Non copia Le icone Non lo fa Neanche Nell'opera Che abbiamo Accanto La Beata Vergine Di Vladimir Che è Quasi Un omaggio Siamo Ancora Nel 1997 100 Per 100 8,5 cm Orler Titola Questo quadro Dalla Vergine Di Vladimir Quasi fosse Il punto Di arrivo Di un Pellegrinaggio Quasi Quasi Fosse L'approdo Di un Cammino Interiore Che ha Attraversato Le tappe Intense Di una Scoperta Due volti L'uno Accanto All'altro È Icona Ma non è Più Icona È Icona Che Arte Di ogni Tempo Duemila Anni Di Storia Diventa Arte Di Davide Orler Dalla Vergine Di Vladimir Non è Più Non è Soltanto Una Visione Qui È Con più Forza E Marcatamente Rappresentazione Qui Non abbiamo Un'evocazione Di volti Anche se Il gesto Lo vediamo Resta Molto Ampio Nella Sua Raffigurazione Pittorica Certo Entra Nei Particolari Con Una Figuratività Che Rimanda A Modelli Primitivi Davvero Primitivi Vi è Tutta Una Riflessione Critica Che Guarda Con Grande Interesse Al Primitivismo Dell'arte Di Davide Orler Non Inteso Come Stanca Replica Di Modelli Preesistenti Ma Come Come Ritorno Ad Una Radicalità Che In Fondo È Caratteristica Stessa Dell'icona E Quindi In Questo Duplice Travaso Troviamo La Forza E La Perenne Capacità Di Parlarci E Di Parlare Di Queste Immagini Certo Un'immagine Più Iconografica Che Forse Meriterebbe Uno Spazio All'interno Di Una Collezione Di Icone Per Testimoniare Come Un Uomo Che Ha Dato La Vita Per Le Icone Anche Nel Senso Di Tante Fatiche Di Tante Sofferenze Di Tante Cadute Compiute Proprio Per Inseguire Il Sogno Dell'icona Ha Poi Però Fatto Propria Un'intera Tradizione Rendendola Capace Di Entrare Nei Modi Espressivi Dell'arte Contemporanea Non Come Rimando Non Come Richiamo Ma Come Vera E Propria Capacità Di Presenza Quello Che vale Per la Vergine Di Vladimir Vale Ancor Di Più Per L'icona Che Abbiamo Accanto Siamo Nella Seconda Parte Del 1600 Kostroma Piccolo Villaggio Della Russia Che Però Ha Dato Corpo A Opere Di Grande Importanza Natività Di Cristo Fine Del 1600 32 Virgola 8 Per 28 Non Stiamo Ora A Raccontare Tutta La Complessa Ricca Straordinaria Simbologia Di Questa Rappresentazione Ricordiamo Solo Che Nell'arte Dell'icona Non Vi è Quello Che Siamo Abituati A Vedere Come Il Presepe Di San Francesco E Di Tradizione Francescana Cioè La Grotta O La Capanna Nella Quale San Giuseppe E La Madre Di Dio Siedono L'uno Accanto All'altro In Venerazione Del Bambino Appena Nato In realtà Nell'icona E La Madre Di Dio In Una Mandorla Rossa Che Medita E Sta In Raccoglimento Accanto Al Cristo In Fasce Deposto In Una Mangiatoia Che Ha Già Le Vestigia Del Sepolcro Che Verrà Rimando Al Sacrificio Della Morte Della Ressurrezione Mentre Giuseppe Sta Raccolto In Solitudine E Un po' Il Rimando Il Richiamo A Quanto Narrato Dai Vangeli Apocrifi Dubitando Di Quanto È Accaduto Intorno A Lui Dubitando Anche Incentivato Nel Dubbio Dal Demonio Poi In Quest'icona Abbiamo Anche La Rappresentazione La Raffigurazione Della Fuga A Gerusalemme Perché Dopo Avere Dubitato Quell'uomo Il padre Putativo Di Gesù Accoglie Il bambino E se ne fa Custode Questo è Nella tradizione Bizantina Il ruolo Di San Giuseppe Si dice Ogni tanto Ma perché Non ci sono Icone Di San Giuseppe Perché San Giuseppe Ha un ruolo Non secondario Nell'economia Della vicenda Di Cristo E della Madre di Dio Ma Ha un ruolo Che è ben Delimitato Quello di Custode Di un mistero Che è più Grande di lui Davide Orler Riprende Il tema Del Natale Secondo L'icona Nel 1997 Anno Quindi Particolarmente Fecondo Per quanto Concerni L'itinerario Spirituale In queste Tematiche Anche qui Un quadrato Sostanzialmente Perfetto 100% Virgola 5 Rispetto All'icona Di Costroma Come era In quel San Giorgio Che abbiamo Visto Poc'anzi Nella Raffronto Nella vicinanza Più che Nella raffronto Che sarebbe Improprio Definire così Con L'icona Di Mosca Tutto Viene Tolto Per andare All'essenzialità Il bambino In fasce Fasce Che sono Quasi Il sudario Con cui Verrà poi Portato Nel sepolcro Il Cristo Defunto Il sudario Con cui Sorgerà Lazzaro Dalla tomba Il sudario Che oggi Noi Contempliamo Nel mistero Della sindone Ma rifacendosi A maestri Più antichi E in particolare Proprio Ad Andrei Rublov Davide Orler Rispetto All'icona Di Costroma Che abbiamo Visto Pone La madre Di Dio Su una Mandorla Rossa Che è Quasi Lenzuolo Che è Quasi Giaciglio E il suo Volto Che è Volto Di luce Che è Volto Di fuoco Di fede È Volto Rispetto Al bambino Richiamando Ancora Il già citato Passo Del Vangelo Di Luca Secondo cui La Vergine Maria Meditava Tutte Tutte Queste Cose Nel Segreto Del Proprio Cuore Davide Orler È Andato Alla Sostanza Del Mistero Del Natale Quel Mistero Gigantesco Per Cui Il Dio Si Fa Uomo Nella Maniera Più Umile Più Povera Più Anonima Possibile Al Punto Che Molti Faticheranno A Riconoscerlo Ma Quel luogo Di Umiltà Di Povertà Dove I pastori Arrivano Perché Gli Angeli Li Chiamano E Dicono Correte Sta Accadendo Qualcosa Di Soprannaturale Voi Neanche Ve ne Accorgete Siete Presi Dagli Armenti Dormite Dormite Siete Ostaggio Del Sonno Quella Grotta Per La Sola Presenza Di Cristo E Di Una Figura Forse Angelica Che È Lì Raccolta In Preghiera Ne Basta Una Per Riconoscere Quanto Di Straordinario C'è Dentro Questa Grotta E Grotta Anch'essa Di Luce Quel Buio Nella Tradizione Dell'icona La La Grotta La La Grotta Grotta La Grotta È Venuto A Liberarci Diventa Colore Colore Cupo Un Bordeaux Un Blu Un Nero Ma Colore Non È Più L'Anonimato Della Perdizione Non È Più L'Anonimato Degli Inferi Non È Più La Cicità Dell'Uomo Caduto Per Una Mela Ma È La Gloria Dell'Uomo Che Riprende La Sua Dignità Perché Il Suo Creatore Il Suo Fattore Non Disdegnò Di Farsi Sua Fattura Il Suo Creatore Non Ha Rinunciato Come Dicevamo Poc'anzi Anzi Ha Voluto Diventare Creatura Quadro Emozionante Perché Racchiude Custodisce Porta Con sé Tutta La Poesia Del Natale E la Poesia Del Natale È La Sostanza Di Questa Immagine E Di Questa Raffigurazione Sta Tutta Qui Sta Tutta Qui In Una Donna Che Ha Accettato Un Concepimento Soprannaturale Lo abbiamo visto Nell'annunciazione E che poi Giace accanto Al figlio suo Quasi Sgomenta Che tutto Si stia Compiendo Secondo Un disegno Più grande Di lei Direi al nostro Alessandro Di Sfiorare Ancora Quel dipinto Del 1963 La Crocifissione 75% 20% Perché Non esula Dal tema Del Natale Non ci Porta Fuori Strada Rispetto Al percorso Che Stiamo Compiendo Anzi Natale Crocifissione 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 Volto Ecco Cosa Resta Della Presenza Di Cristo Tra noi Il Volto Di Cristo Acheropita Il Volto Di Cristo Non dipinto Da mano D'uomo Non ci Addentreremo In molti Dettagli Anche per Ragioni Di tempo Ma è Il Volto Che Gesù Lascia Prodigiosamente Su un Telo Di lino La Narrazione Evangelica Più Nota Per L'Occidente Parla Del velo Della Veronica Veronica Oltretutto Ricordiamo Sempre Un Anagramma Per dirla In maniera Molto Banale Di Vera Icona Veronica Ma Quel Volto Sul velo Della Veronica È Il Volto Di Cristo Al Calvario Sanguinante Sofferente Questo È Un Volto Ieratico È Il Volto Santo Non dipinto Da mano D'uomo Del Cristo Che manda Il suo Sembiante A Re Abgardie Edessa Il quale Secondo la Leggenda E le cronache Malato Di Lebra Aveva mandato Un suo Emissario Alla Sequela Di Gesù Perché Lo Dipingesse Ma Questo Pittore Non Riusciva A Raffigurare Gesù E allora Ecco che Gesù Vedendolo Lo Avvicina Si deterge Il volto Da una Bacinella D'acqua E Da Il Proprio Asciugamano Il Proprio Telo Di Lino A Questo Emissario Re Abgar Lo Riceve Se lo Pone Sul Viso E Guarisce Molto In Sintesi È Molto In Sintesi Dalla Malattia Che Lo Affliggeva E Quindi Pone Quel Telo Sulle Porte Della Città La Storia Dice Che Il Fondamento Di Tutte Le Icone E Quel Volto Anche Quando Il Volto È Quello Di Un Santo Della Vergine Di Un Episodio Dell'Antico Testamento L'icona Si può Fare Perché Cristo Ci Ha Lasciato La Sua Immagine E Quell' Immagine È L'immagine Del Volto Santo Il Dio Che Non Si Poteva Rappresentare Secondo Gli Ebrei Diventa Rappresentabile Perché Si è Fatto Carne E Sangue Come L'Uomo Questo Mandillion Della Russia Occidentale Siamo All'inizio Dell'Ottocento Importante Icona Dell'ambiente Dei Vecchi Credenti 72 Centimetri Per 59 Scusate Ecco La Raffigurazione Anche Dei Tre Momenti Riferiti Ad Abgar Due Il Ricevimento Del Lenzuolo E La Collocazione Del Lenzuolo Sopra Le Porte Della Città E Poi Rimando Anche Al Telo Della Veronica Nell'icona Che proviene Dall'ambiente Dei cosiddetti Vecchi Vecchi Credenti Russi I Tre Angeli Tengono Il Lenzuolo E Mostrano E Svelano La Visione Del Volto Santo Eccolo Il Volto Santo Di Davide Orler 1997 Smalti Su Tela Grande Importantissima Icona Cento Per Settanta Centimetri 1997 Un Volto Che È Luce Un Volto Che Si Irraggia Un Volto Che È Ciò Che Cristo Ha Lasciato A Noi Della Sua Presenza Un Quadro Strepitoso Un Quadro Straordinario Che È Il Giusto Coronamento Di Questo Percorso Che Abbiamo Fatto Insieme Nell'Arte Sacra Di Davide Orler Accanto All'Arte Delle Icone Stiamo Anche Rivedendo Alcune Icone Che Abbiamo Presentato Nel Corso Di Questa Serata Arte Delle Icone Immagini Delle Icone Immagini Dei Grandi Maestri Della Pittura Che Erano Stati L'Alimento Di Davide Orler Arriviamo All'omaggio Agiotto Del 2004 100 Per 150 Centimetri Copertina Del Catalogo E Anzi Del Catalogo Con Cofanetto Della Grande Mostra Tenutasi A Firenze Omaggio Agiotto Di Davide Orler Quadro Capolavoro Quadro Che è Forse La Somma Il Compendio Il Riassunto La Parola Che Davide Orler Ci ha Lasciato Nel Suo Cammino Di Arte Sacra Con Pazienza E Umiltà Scrive Orler Nella Sua Autobiografia Attingendo Alla Sorgente Inesauribile Della Meditazione Della Preghiera Della Fede Ho Effettivamente Cercato E Seguiterò Finché Ne Avrà Forza Verrebbe Da Dire Sta Seguitando Anche Ora Che Non C'è Più A Portare Avanti Il Discorso Dell'Arte Sacra Nel Quale Era Chiusa A mio Giudizio L'essenza Stessa Dell'essere Artista Uomo Che Cammina Con Gli Uomini E Che Si Dibatte Egli Pure Tra Dubbi Paure E Incertezze Ma Al Tempo Stesso Febbrilmente Devoto Allo Studio Alla Ricerca E All'elaborazione Di Contenuti Nuovi Per Tentare Di Aggiungere Un Proprio Magari Piccolo Ma Originale Contributo A Quella Ricerca Di Senso Che Ciascuno Va Cercando Nel Corso Della Sua Intera Esistenza Gentili Amiche Cari Amici Siamo Arrivati In Fondo A Questo Percorso Nell'Arte Sacra Di Davide Orler E Nel Parallelismo Con Le Icone Non È Che Una Tappa Di Questo Itinerario Ma È Stata Una Tappa Fondamentale Di Cui Non Mancheremo Di Tornare A Parlare Per Le Molteplici Sfaccettature Che Questo Aspetto Accolto Nel Cammino E Nell' Esperienza Di Uno Dei Grandi Protagonisti Della Seconda Metà Del Novecento Come Davide Orler È Stato E Ha Dimostrato Anche Questa Sera Con Sermissioni Di Palinsesto Grazie Per Essere Stati Con Noi Buon Proseguimento Di Nottata E Alla Prossima Sermissioni Sermissioni